Cari amici, benvenuti a questo ciclo di video sul rebirthing e sulla respirazione circolare, dove vi parlerò delle caratteristiche di questa tecnica così potente che è in grado di trasformare profondamente la nostra vita. Io mi chiamo Cristiano, opero da oltre 20 anni in campo olistico e sono specializzato proprio nella pratica del rebirthing, di cui potete trovare altre informazioni sul mio sito, sul canale YouTube e nel mio libro Rebirthing Evolutivo, edito da Macroedizioni, dove spiego il mio personale approccio a questa tecnica. Di cosa si tratta? Il rebirthing fondamentalmente è una pratica di purificazione fisica ed emozionale basata sul respiro. Potremmo anche definirlo un metodo di autoguarigione che aiuta ad entrare in contatto con se stessi, col proprio inconscio e con la propria anima. Il rebirthing si basa su una tecnica chiamata respirazione circolare, che in modo semplice e naturale fa emergere tutte le tensioni psicofisiche e le emozioni che abbiamo bloccato a livello inconscio nell'arco della nostra vita. Attraverso il respiro, tali emozioni hanno la possibilità di sciogliersi, eliminando così quei disturbi psicosomatici di cui spesso sono la causa. Tra questi abbiamo ansia, attacchi di panico, stati depressivi e tutte le somatizzazioni che derivano da emozioni bloccate. La respirazione circolare utilizzata nel rebirthing è una tecnica semplice, ma deve essere praticata correttamente e per l'intensità delle reazioni che possono emergere le prime volte è bene affidarsi ad una persona esperta che abbia seguito un corso specifico. Questo video è una presentazione rivolta a chi non conosce il rebirthing o ne ha solo sentito parlare. Nei prossimi vi descriverò in dettaglio la tecnica e che cosa avviene durante una seduta. Il termine rebirthing significa rinascita perché in alcuni casi durante la respirazione possono affiorare ricordi o sensazioni legate alla propria nascita. In realtà nella mia esperienza professionale questo evento è particolarmente raro, ma ogni seduta di rebirthing è un viaggio unico e diverso per ognuno, un'esperienza intensa, profonda, in cui emerge il nostro mondo interiore. In questo senso il termine rebirthing ha una valenza ancora più significativa in quanto attraverso la sua pratica si possono raggiungere effettivi miglioramenti della salute psicofisica, un maggiore equilibrio interiore e si può iniziare un cammino di evoluzione che è una vera e propria rinascita. Grazie.